Musica Ben ritrovati con il Tg Venezia di Caffè TV 24. Apriamo l'edizione di oggi con il taglio del nastro con il quale l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, affiancata dal direttore generale di US4 Mauro Filippi e dal sindaco Andrea Cedreser, ha siglato ufficialmente il ritorno a nuova vita dell'ex tribunale di San Donà. Il Palazzo di Vetro, da sempre considerato uno dei simboli architettonici della città, era inattivo dal 2013. È stato dunque poi acquisito dall'azienda sanitaria per 3 milioni di euro, con l'obiettivo di farlo diventare sede del Dipartimento di Prevenzione del Distretto Sociosanitario Unico. Il Palazzo, con i suoi quattro piani da circa 750 metri quadrati di superficie ciascuno, vedrà dislocate al piano terra le attività che richiedono l'accesso diretto del pubblico, ognuna con la propria sala d'attesa e un ingresso separato. Al primo piano ci saranno invece gli uffici amministrativi del Distretto Sanitario con l'assistenza domiciliare integrata e la centrale operativa territoriale. Al secondo, il servizio di Contact Tracing e la sede del servizio di Igiene e Sanità Pubblica. Al terzo piano, uffici dello Spisal, del servizio veterinario, del servizio screening e della medicina legale. Infine, il piano interrato sarà utilizzato come megaparcheggio. Con la presente si consiglia alla signoria vostra di prendere in seria considerazione la possibilità di presentare dimissioni immediate dalla carica a cui è stata eletta senza i requisiti di onestà e correttezza morale necessari per svolgerla e di non ricandidarsi nelle prossime elezioni. Nel caso in cui lei ritenesse di non seguire questo suggerimento si renderà conto a breve delle nefaste conseguenze a cui sarà soggetta la sua persona. Sono queste le parole della lettera anonima ricevuta nei giorni scorsi da Silvia Susanna, sindaco uscente di Musile di Piave, che il 3 e 4 ottobre si presenterà alle amministrative con la lista Scelgo Silvia, orfana di alcuni leghisti e militanti. Ho sempre detto che per me fare politica è ancor più in occasione di una campagna elettorale e l'unico obiettivo è quello di impegnarsi sui programmi da realizzare per i cittadini e per il bene della città, che si amministra e si vuole amministrare. Ha scritto il primo cittadino su un post della sua pagina Facebook. Metodi e toni denigratori che sono già stati usati di certo non mi appartengono e ancor più le lettere anonime minatorie come quella che ho ricevuto e che pubblico qui sotto non rappresentano minacce per me. Ieri il sindaco ha poi sporto denunce ai carabinieri locali che stanno indagando per andare a fondo alla vicenda. E proprio un approfondimento ha permesso agli agenti della polizia locale di Preamaggiore di scoprire in un'abitazione 80 grammi di cocaina e un cospicuo quantitativo di denaro contante. L'intervento dei poliziotti era seguito alla segnalazione di un residente che aveva notato un uomo arrampicarsi sul terrazzino al primo piano di un'abitazione poco distante dalla sua. Gli agenti hanno presto appurato che l'improvvisato Spider-Man era solo un ospite del proprietario dell'appartamento ma l'atteggiamento nervoso del giovane non li aveva convinti. Ed effettivamente la perquisizione dell'appartamento ha confermato i sospetti degli agenti. A quel punto il commissariato di Portogruaro ha informato l'autorità giudiziaria di Pordenone che ha iscritto il proprietario e l'ospite dell'abitazione rispettivamente di 29 e 21 anni nel registro degli indagati con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. E sempre nei giorni scorsi un 27enne è stato arrestato a Mestre per aver esibito un documento falso negli uffici anagrafe. Si era presentato una prima volta una settimana fa, in 2 settembre. In quell'occasione gli impiegati si erano insospettiti e avevano informato la polizia locale. Ieri, quando il ragazzo è tornato per procedere con le pratiche, gli esperti hanno verificato che il passaporto era contraffatto. L'uomo originario dell'Aguinea è stato poi trovato in possesso di un permesso di soggiorno che aveva ottenuto proprio grazie all'esibizione del documento fasullo. Dopo essere stato trasferito nelle camere di sicurezza del Tronchetto, il giovane si è presentato questa mattina davanti al giudice che ne ha convalidato l'arresto e lo ha rimesso in libertà, in attesa del processo che si terrà a novembre. In arresto anche un 33enne trovato dalla polizia con una ventina di dosi di stupefacenti vari. Il pusher era stato già fermato a maggio di quest'anno nel corso di un'operazione antidroga a Zellarino, a seguito della quale gli era stata inflitta una pena di un anno e otto mesi di reclusione. Gli agenti del nucleo cinofilo lo hanno fermato ieri sera a Marghera, in via Fratelli Bandiera, dopo un breve inseguimento durante il quale ha tentato di sbarazzarsi degli involucri contenenti eroina, cocaina e hashish, gettandoli a terra. Stamattina l'uomo è stato rimesso in stato di libertà con obbligo di firma. Anche lui sarà processato a novembre. Veniamo ora all'ultima notizia di oggi. La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato beni per un totale di 3 milioni di euro nei confronti di un cittadino residente a Jesolo. Il sequestro arriva all'esito di una precedente indagine che aveva già portato a indagare l'uomo in quanto coinvolto in diverse vicende per reati di riciclaggio, ricettazione, truffa, bancarotta fraudolenta che avevano interessato le province di Venezia e Treviso. Nella vicenda risultavano coinvolti anche la moglie e altre persone alle quali erano stati intestati alcuni beni. Nello specifico, l'attività svolta dalle fiamme gialle è consistita nella ricostruzione del profilo del criminale dell'uomo insieme all'analisi del suo patrimonio. Gli investigatori avevano scoperto una grossa disparità tra i redditi dichiarati e le sue disponibilità economiche che comprendevano conti bancari, un'azienda, denaro contante, tre orologi costosi e sei unità immobiliari inserite in un prestigioso complesso residenziale di Jesolo Lido. E anche per questa edizione è tutto. Vi lascio ora ai prossimi programmi di Caffè TV24 e vi auguro una buona visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.